Musica Ciao a tutti ragazzi sono Luke e dalla farm di Cactus creata nell'episodio precedente passiamo ad un'altra cosa entriamo in casa mi serve un po' di qualcosa da vendere vediamo un po' che abbiamo chi possiamo vendere uno stack di tin uno stack di tin e vediamo un po' quanta energia abbiamo 15.000, 15.000 è poca perché mi servono 5 diamanti 5 diamantucci oh abbiamo un bel 30.000 per cui raccogliamo tutta questa energia ok abbiamo un bel 46.000 andiamo a vedere quanti diamanti riusciamo a prendere andiamo qui mettiamo questo dentro sono 5 giusti giusti, perfetto in poche parole dobbiamo fare un alchemic chest dove l'è, dove l'è, dove l'è dove cavolo l'è me l'hanno rubeta ah qua un alchemic chest per cui 3 colori, una chest 2 pezzi di ferro allora 2 pezzi di ferro una chest poi abbiamo detto i colori questi qui abbiamo il verde l'azzurro no, il blu e l'azzurro lo abbiamo qua drenito qui eh, chi te lo qui allora, craftiamo subito subito una chest il blu l'azzurro il verde un diamante 2 pezzi di ferro una chest e della pietra voilà abbiamo l'alchemic chest poi, poi, poi dovremmo fare il condenser che sono 4 diamanti un alchemic chest e 4 e 4 come cavolo si chiamano? ossidiane faccio prima andarla a prendere a piedi 4 ossidiane ok ecco il ricarciofo 4 pezzi di ossidiana voilà abbiamo l'energy condenser l'energy condenser l'energy condenser questo lo possiamo vendere ole l'energy condenser lo andiamo a piazzicare qui allora questo qui il collector è quello che prende energia la manda al relay e se noi mettiamo l'alchemic scusatemi il condenser di fianco manda l'energia a entrambi cos'è? questo è una chest una chest duplicatrice vedete qua adesso non arriva energia perchè non abbiamo nulla se io per dire metto una mela guardate vedete che le le il collector manda l'energia anche a questo una mela vale 128 per cui qua quando arriverà 128 ci darà una mela siamo quasi arrivati ok 128 ci ha dato una mela ce l'ha duplicata e ora riparte la capo logicamente un collector è pochissimo poi è la mk normale ci serve la mk2 bene ora io qua metterei a fare un po' di diamanti ci metterà un bel po' perchè sono tanti un diamante ricordate che vale 8000 per cui ora che arriva 8000 è molto lento per il momento poi più avanti faremo le cose molto più avanzate allora mettiamo un diamante oh un diamante ho detto voilà perfetto ora che arriva 8000 passa natale capodanno bene 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 però volendo noi possiamo già mettere un altro relay allora ci servirebbero però 9 diamanti 9 diamanti dovrei andare in caverna a scavare dovrei andare in caverna a scavare però 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 è un casino è un casino è un casino è un casino come le posso fare allora questa la pistola la mettiamo qui intanto facciamo la nanna no non è notte andiamo a vedere se ha fatto qualcos'altro siamo sempre a 3 e i cattus sono un po' mosci da da crescere allora bob for the wind dobbiamo ucciderlo che questo ci rompe i cubi ce li brucia brutta checca no a fuoco ole ole ah no posso fare il pompiere we allora andiamo a chiesa anzi anzi che chiesa quasi quasi sposteremo il query ragazzi che ne dicete spostiamo il query spostiamo il query spostiamo il query però la cosa brutta allora intanto prima di tutto invece di spostare il query facciamo una cosa migliore voilà e ci buttiamo giù le scarpe le abbiamo ole voilà vedete quanta roba questa la raccoglieremo più avanti quando faremo il piccone di dark matter che è molto più semplice raccogliere facciamo così e saliamo giù bene la cosa brutta del query ragazzi è che quando finisce l'impalcatura si si può rompere ma rimane sto cavolo di coso giallo e rosso perché questa volta il query lo farei un pochino più lontano che ne dicete che ne dicete allora questo qua ho scoperto che oltre ad essere un piccone non è solo un piccone ma è anche una pala matone è anche una pala guardate vedete rompe tutto non so se rompe la legna no bene allora questa si può rompere grazie rompiamo qui qui c'è del carbone no è finito tutto logicamente rompiamo tutto ci riprendiamo la redstone la leva e vediamo dove fare stavolta il query io direi di farlo un pochino più lontano perché se no ci rovina ah no è sparito l'è sparito questo si può anche rompere allora non ce li ridà indietro logicamente però si possono rompere oh non lo sapevo per cui direi di farlo proprio di fianco che ne dicete facciamo una fila di query tanto poi richiudiamo ah togliamo gli alberi perfetto ho tolto un po' di alberi allora il query è lungo 11 se non mi sbaglio facciamo facciamo 1 2 3 3 4 5 5 lo mettiamo al sesto lo dovremmo mettere qui qua ok più indietro perfetto allora facciamo così prendiamo il nostro bel query e lo piazzichiamo qui nooo perché è venuto al contrario pirletta lo piazzichiamo qui ole mmm più indietro di uno porca trota porca trota più indietro di uno e lì è perfetto ok lo mettiamo più indietro di uno per cui qua voilà ole ole olà rompiamo tutto chi per fare giusto l'impiantuccio oh le mele servono ragazzi le mele servono perché prima o poi devo domesticare qualcuno ok allora 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 rifacciamo tutto l'impianto ci mettiamo la nostra bella leva e voilà ok ora quello che manca manca solo il carbone gli rimettiamo il tubo di legno e la ender chest voilà voilà andiamo a prendere il carbone andiamo a prendere il carbone che cavolo sto combinendo andiamo a prendere il carbone andiamo a case perché non corre sto carciofo ambulante uè prendiamo un paio di stack e non me ne vengono mai due stack ma guarda che che sfiga porca trota allora andiamo lì dov'è? qui e facciamo come sempre no 32 32 23 che cavolo sto combinando e 23 bene il query ha cominciato ora toglie tutti i pezzi che non servono poi farà il meccanismo qui l'impalcatura e poi inizierà a scavare non è inutile vi faccio vedere perché tanto vi avevo già fatto vedere l'altro almeno avremo molti più minerali andiamo a vedere chi si ha fatto qualche cosa siamo sempre a 3 siamo sempre a 3 siamo sempre a 3 ah ce n'è uno lì bloccato guardate eh devo sistemare l'acqua allora devo sistemare l'acqua perché a volte si incastrano gli angolini poi spariscono vabbè vedremo bene ragazzi abbiamo fatto il query abbiamo fatto anche la energy condenser chiudiamo il portale la andiamo a riguardare voilà siamo a 885 qua abbiamo un bel 2000 da prendere ok vi dico che da Luke è tutto ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti